Grazie Presidente, accettiamo l'emendamento, quindi per noi va bene arrivare al punto 2 e 3, lo accettiamo non in quanto si cassa, ma perché speriamo che ci sia aperta una discussione anche in Commissione, e soprattutto in Commissione, affinché sia chiaro quello che ci aspetta nei prossimi anni. Se oggi la pianificazione del governo e delle province, un domani quando le province non ci saranno più, si svolgerà anche il ruolo delle province, e in ogni caso possiamo immaginarci un ruolo nuovo della regione, visto che ad oggi è demandato all'iniziativa dei sindaci la segnalazione su quali scuole dover intervenire, parlo del mio comune, Carrara, il sindaco non ha segnalato a tutte le scuole dove è necessario e urgente intervenire, quindi questa è una cosa grave, noi non è che dobbiamo schiacciare i piedi ad altri livelli istituzionali, ma in una fase così delicata sicuramente dobbiamo fare rete, chiamiamola così, quindi va bene, grazie. Grazie.